Bentornati su Sirius Ragazzi, la rubrica delle serie TV. 20 novembre 2015. È la data d'uscita in contemporanea mondiale sulla internet TV Netflix di Jessica Jones. Dal titolo avrete certamente capito che la recensione di oggi, la chiacchierata di oggi, sarà proprio su... questo secondo personaggio Marvel che Netflix ha prodotto. Lo show, dopo il successo sia di pubblico che di critica del predecessore Daredevil, fa salire l'hype ai milioni di fan sparsi per il globo, impasienti di scoprire cos'altro sta succedendo ai margini del Cinematic Marvel Universe. Lo show è stato scritto da Melissa Rosenberg, già autrice di show di successo come Dexter e Deossi e sceneggetrice anche del primo Twilight. Jessica Jones rappresenta forse anche più di Daredevil quella parte dell'universo Marvel più estremo, in quella zona molto dark in cui, giusto e sbagliato, spesso si confondono e assumono delle connotazioni molto più reali, molto più umane, molto più vicine a noi e non prettamente legate a quel perbenismo dei film Marvel di cartello, cioè quelli che vediamo al cinema, o abbiamo visto al cinema finora, anche se anche al cinema. Già col secondo Capitano America le cose sembrano che stiano cambiando. Questo show in maniera diversa di Daredevil scava nell'animo di questo personaggio, che ha appeso il costumecchiodo per dedicarsi a una vita regolare, a una vita normale, da civile, da investigatrice privata. Lo scopo infatti non è raccontarci le origini del supereroe, no, ci ritroviamo in una fase particolare della vita di Jessica Jones, una vita particolarmente complicata e difficile. Jessica è infatti appena scampata dalle grinfie di Killgrave e deve rimettersi in piedi, aiutata dalla sua sorellastra, nonché migliore amica, Trish, personaggio pubblico rinomato, ex star della televisione, nonché conduttrice del più famoso show radiofonico di New York. Con un approccio da noir e dal thriller psicologico, gli autori ci presentano uno show atipico in tutto e per tutto, a partire dalla trama che appare sin da subito abbastanza sconnessa. Ciò dà un senso di forte perplessità allo spettatore che sin dall'inizio si ritrova un attimino spaesato. La sensazione è che gli autori ci abbiano voluto sin da subito immergere nella vita e nella mente tormentata di questo personaggio che, è chiaro, stia attraversando un periodo difficile, un periodo con chiari segni di un recente problema post-traumatico. Col senno di poi, quello che sembra essere il focus su cui si concentra la serie è proprio la descrizione di questo personaggio, è proprio la riscoperta, insieme al personaggio stesso, di Jessica Jones. Forse per questo lo show potrebbe non piacere a tutti. A differenza di Daredevil, lo scorrere della narrazione è particolarmente lento. L'azione, soprattutto nei primi episodi, è veramente, veramente molto blanda, a discapito del ritmo narrativo che spesso, se non si riesce a legare in maniera empatica col personaggio, può apparire abbastanza soporifero o abbastanza noioso. La serie, che spesso finge di avere un tono procedurale, si trasforma nel caso Jessica Jones. Non sto qui a spoilerare nulla, ma è ovvio che il destino di Jessica è strettamente legato a quello del suo antagonista, del villain della serie, che è Killgrave. Un personaggio instabile, malvagio e assai particolare, in grado di poter piegare la volontà della gente, per via di una strana malattia che le ho colpito da bambino e che i genitori, medici e scienziati, hanno provato ad aggiustare, in qualche modo, rendendolo Killgrave, rendendolo la persona che è oggi, la persona che può controllare le altre persone. Il destino dei due è legato, sono ossessionati l'uno dall'altra. E tutto ciò che accade a causa di Killgrave, Jessica lo somatizza come se fosse una propria responsabilità, perché non è stata capace di fermare Killgrave, rendendolo show a tratti tetro-psicologicamente molto forti. Tennant presta il volto a Killgrave, regalandoci un'interpretazione sopra le righe molto, molto azzeccata. La personalità di questo villain è molto controversa, ambigua e spesso contraddittoria. Tennant riesce a trasmettere tutto questo con un'abilità degna dei più grandi attori inglesi, spesso considerati fra i migliori al mondo. Jessica, invece, è interpretata da Kristen Ritter, attrice vista finora in ruoli secondari di Aggregaria e per lo più comici. Qui non solo reinventa se stessa, ma ricrea un personaggio che sicuramente le darà molto credito in ambito hollywoodiano, in ambito cinematografico. Personaggio difficile questa Jessica. Introversa, problematica, sboccata, tosta e accattivante. Già, perché Jessica non aspetta che siano gli uomini a farsi avanti, ma se lei ha voglia di sesso, se lei ha voglia di stare con qualcuno, è lei che se lo va a prendere. Questo non significa che la serie è infarcita di sesso, c'è qualche scena che effettivamente, per gli standard Marvel, è decisamente oltre. Anche se con Deadpool la Marvel sembra essersi sbottonata un tantino. No, nulla di tutto ciò, nulla di paragonabile a altre serie come HBO, le serie HBO in cui il sesso sembra essere la cosa più... facile del mondo. Ma nonostante sia un prodotto Marvel, questo Jessica Jones sulla falsa riga di Daredevil si mantiene con toni molto cupi e introspettivi. Anche il linguaggio è fuori dai canoni classici della Marvel, tanto che se ci fosse stato il Tony Stark di turno sarebbe lì a dire ogni due o tre linguaggio, 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 e che Capitan America potrebbe non accettare, perché Jessica Jones è anche molto molto sboccata. Quasi un anti-eroe, ai limiti dell'alcolismo. In Jessica Jones, inoltre, si palesa molto di più l'appartenenza al Cinematic Marvel Universe. Forse Daredevil, che era il primo, i showrunner hanno fatto in modo che, se malauguratamente la serie avesse preso direzioni perse, soprattutto come risposta dalla critica e dal pubblico, potevano in qualche modo reindirizzare lo show in maniera diversa. Ma dopo quel successo lì, è stato ovvio inserire tutto questo nell'universo Marvel, con molta più semplicità. Per questo motivo, in Jessica Jones, i riferimenti agli Avengers sono proprio espliciti. In uno degli episodi, Luke Cage e Jessica Jones ne parlano con una tranquillità che in Daredevil non è esistita. Inoltre, lo show è proprio disseminato di indizi, fra espliciti appunto e nascosti, che rivelano la possibilità e la futura presenza di nuovi personaggi o di nuove diramazioni che potremmo scoprire di questo universo che la Marvel ormai ha creato e sta creando. Luke Cage, ad esempio, è il co-protagonista di questa serie, lo vediamo in quasi tutti gli episodi, e presto la Marvel con Netflix gli dedicheranno uno show a parte, farà parte del crossover dei Defender che Netflix farà per Marvel, quindi diciamo che questo Jessica Jones, per quanto introspettivo, è forse più inquadrato in questo universo che la Marvel sta creando, per noi fan, per noi nerd. Inoltre, è molto sottile, ma c'è un'interconnessione appunto fra Jessica Jones e Daredevil, con la presenza di due personaggi che erano già nello show del diavolo di Hell's Kitchen. Parliamo del Sergente Maoni e di Claire, l'infermiera, l'infermiera che aiuta Daredevil e l'infermiera che si riproporrà come spalla per Jessica Jones e che quindi rivediamo in questo show. È una cosa questa che a me personalmente piace perché appunto dà quel senso di interconnessione fra le due serie, di continuità fra una serie e l'altra. Inoltre, Marvel e Netflix ti costringono in qualche modo a seguire entrambe le serie perché è chiaro che è più facile che con dei riferimenti all'uno e all'altra si può avere un quadro più completo di quello che sta succedendo a Hell's Kitchen. Oltre a Rosario Dawson abbiamo un altro volto illustre della Hollywood che conta, Carrie-Anne Moss, la Trinity di Matrix, che interpreta uno spietato avvocato che spesso chiede aiuto a Jessica per faccende appunto da investigatrice privata. Un personaggio forte, interessante e gay. Altro sdoganamento della Marvel. Un personaggio forse un po' bistrattato perché all'inizio è molto presente ma col tempo, con il continuo, con il proseguio della storia, viene messo un po' da parte e questo fa un po' storcere il naso. Jessica Jones è uno show particolare, ben fatto, tecnicamente all'altezza del fratello Daredevil, che si rivela, almeno secondo me, non per tutti. A tratti risulta noioso, a tratti risulta proprio soporifero, ma perché è un tipo di show diverso, è un tipo di show molto legato al personaggio, è un tipo di show in cui la storia è quasi ad un secondo piano rispetto a quello che è il focus a cui gli autori mirano, che è appunto il personaggio Jessica Jones. Una serie che chi ama e segue il Cinematic Marvel Universe deve assolutamente vedere perché ci sono indizi, ci sono particolari e a prescindere ti svela un angolo di quell'universo lì che chi segue queste cose, chi segue i cinecomics della Marvel, deve assolutamente conoscere e sapere. Ma se siete dei fruitori, se siete degli spettatori così casuali e che volete vedere uno show bello, carino e divertente, forse Jessica Jones è un attimino un po' più impegnato. Guardatela anche perché la Ritter dà un'interpretazione che è eccezionale sopra le righe ma brillante davvero. Che dire, Sirius finisce qui, il prossimo video sarà dedicato, credo, a Breaking Bad, quindi non vi perdete il prossimo episodio, fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie, se vi piace questo nuovo tipo di format o se pensate che bisogna cambiare qualcosa, insomma, fatemi sapere tutto nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!